Paura questa mattina a Pieve del Grappa, località Crespano, lungo il sentiero delle Piere Rosse, dove un settantenne di Bassano, che stava procedendo sulla sua mountain bike, è stato travolto da un albero appena tagliato da un boscaiolo. Una vicenda che ha dell'incredibile nella sua gravità. Serie le condizioni del ciclista è stato proprio il boscaiolo a chiamare i soccorsi. Sul posto il suo M118 di Pieve e l'eliambulanza. Dopo un primo intervento dei sanitari che hanno dovuto praticare un drenaggio toracico al settantenne, l'uomo è stato trasportato al cafoncello di Treviso.